Buongiorno, buonasera, oggi Giorgio si parte in orario decente, sono già con Giorgio E mi stiamo fottendo gelato perché oggi stiamo partendo alle 9 di sera E prima di partire gelato ci sta sempre Dove stiamo andando? A Parigi A Parigi A Parigi perché dobbiamo fare dei video molto caratteristici Dobbiamo fare dei video che vedrete in futuro forse Non so quando ma li vedrete A Parigi scrivetecela le domande Quando noi siamo a casa ci dicono che il tempo c'è Sì scrivetelo Ok Che c'è? Qual è il mio posto dove sei salutato? Ah sì C'è un po' di disagio in quest'aereo Ti salve sono finito al McDonald's con dei youtuber assai importanti Mi trovati qui per caso? McDonald's da Gracco ricordiamolo Eh certo guarda minchia pura qualità Prima qualità di carne tumorale Però io prendo solo l'insalata perché sto a dieta 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 Che già sta mangiando Guardatelo mentre si nutre Con le sue patatine Ecco Ciao a tutti e buonasera Siamo in stanza di hotel E sono già successo un sacco di cose in questo hotel Abbiamo cambiato stanza due volte Abbiamo fatto cambio di stanza E adesso siamo in questa stanza dove c'è Giorgio che sta facendo non so cosa Sta prendendo le ciabatte E qui c'è il letto di McShosha e di Brazzo Uno dei due che deciderà di dormire con noi Brazzo McShosha vuole dormire ma è in nube Sto alla stanza Ti faccio vedere il cesto Ovviamente io faccio vedere sempre le stanze Perché voglio che TripAdvisor mi Mi prenda E ho dato il di merda Lo so raga Non c'è bisogno che me lo dite voi Questa è la stanza Questa è la stanza da letto Non mi sto qui a soffermare tanto Perché fa cagare Detto questo siamo in Natale Domani mattina sveglia molto molto presto Quindi ci vediamo domattina Buongiorno Siamo già stati a fare colazione Adesso stiamo a scendere Buongiorno Stamattina stiamo in un angolo assai buio Stamattina si è svegliato con questa cosa del caffè Non mi credo Comunque ragazzi stiamo andando a registrare dei video challenge Molto molto figli Dobbiamo farne un sacco Ce la faremo in questi giorni E siamo arrivati al luogo misterioso Adesso vi farò vedere un po' di backstage Tra virgolette Perché i video veri e propri li vedrete in futuro Perché sono ancora delle cose assai segrete E assai misteriose Bustano alla porta vediamo chi è Iscrivete al mio canale Trovate tutti i link in descrizione E ci diciamo gente Allora Suga minchia Guardate dove stiamo andando a fare la sfida Assai misteriosa In quella piscina lì Probabilmente l'acqua sarà molto Molto fredda e molto congelata Però ci proviamo Perché ora ci ghiacciano le palle Oh ma vedete sotto la veste Duffati Allora Giampidec sta procedendo Qua Walter White sta procedendo A fare la sua crystal meth Che minchia stai facendo Stai facendo Perché dopo che abbiamo registrato questi video Tra cui il video in piscina Che l'ho sentito malissimo Tipo un dolore di testo assurdo Però ci abbiamo fatto il minuto fighissimo Mi sto prendendo degli integratori Con creatina Coenzima Magnesio Zinco Serenio Sodio Potassi Vitamina B3 O 6 grammi di Diciamo di integratori Adesso io vado a inserire Sperando che non metto Sì eccoli qua Che cazzo è quella La voglio assaggiare un po' Il doping Non ti fa niente Non posso Cioè questa è peggio del doping Agitiamo Un gioco di mano Tutti tutti Ci sono abituati Un po' meno Perché sono adesso Sono destri Quindi così Già mi sento meglio Ragazzi c'è qualche problema Con Giampide Il video che vedete A breve Ho fatto una challenge All'inizio stavo andando Tutta bene Però poi mi sono Adesso Siamo Che Cazzo l'intesto Cos'è questa cosa Fammi Un po' questo Poi vedrete nel video Che è stato il pezzo di merda A mettermi tutto questo Mi piacere che Attenzione Un bacetto Gli stai dando un bacetto Giorgio Guarda Sempre una balena Esatto Guarda So spiagato Non mi ho Brasile Che bello Brasile Non mi piace Il mio Brasile Io sto qui Mi piace Non ti mangio Un forcaccio pure tu Anche riprendi Stiamo notando Un esemplare Di Giorgio Che salta Sul suo trampolo Sono un canguirello Un canguirello E dove c'è il marsupio Un canguirello Un canguirello E dove c'è il marsupio Tutto bello rosso Eh no perché Sembri un Tampax Però il Tampax Fa una bella vita Beh insomma A metà Ma guarda che bella luce Caratteristica È bello Viene Viene molto Ragazzi Allora Questa è la nuova Auto di Stormi Adesso io faccio una cosa Quell'auto nuova di Stormi Adesso Se non suona l'allarme Io Faccio Gli schiacchiati A questo coglione Sì anche Scompazze sono elettrici E gli scassi Alziamo anche questo Sì Ok ottimo Ottimo Chiudi anche questo Giorgio Ok adesso scappiamo Ciao a tutti Buongiorno ragazzi Sono alle 8 del mattino Sono già In costume E sto andando giù In piscina Per fare Gli ultimi video Ragazzi Come vedete Sono mezzo bagnato Perché Siamo appena usciti Da quella piscina Per registrare un video Assai ieri E sono con l'ultimo Superstita Buonasera Da notare Guarda il mio collo Attiva l'amoratore Perché ieri Sono stato tutto il giorno al sole Quindi è la X-Murri Esatto Ciao Giorgio Che ci fai sul mio collo Guardate Giorgio Frasti Che sta provando a Ho fatto un pirito Vero Di nuovo Giorgio Nostro coro rete Porca troia Puttana Stavamo scassando quelli Ma non è Non è molto positiva Come cosa Guardate che bel tempo A Varese E noi ci siamo appena Buttati in piscina Ci siamo ricambiati Per l'ennesima volta Perché abbiamo fatto Un altro video in piscina Che vedete sempre In giro per le stag Ma tu mi devi spuntare Così dalle spalle Vedi che mi preoccupo Mi ha altri vlog Ti ha caccato All'occhiai Io non mi sono pettinato Io provo Un canguro Spunta dalle pareti Non si sa da dove Ragazzi allora Oggi Questa è abbastanza Calaustrofobia Adesso sei eliminato Sì dove stiamo andando Dove stiamo andando Stormi Adesso stiamo andando di là Sì sì Ormai abbiamo con 23 cassetti E possiamo vedere Cosa contiene Cosa c'è la propria interna Non c'è niente Un dvd Non è esatto niente Una colonna Una colonna Assai misteriosa Molto dura insomma Di materiale Materiale Poliformico Esatto esatto Sì una sedia assai comoda Io mi apro Lattina di aranciata E bevo Perché ho sete Così mi bevo Mangio Do un bel morso E poi alzo Panino E alzo pure Aranciata Parca tua madre Ragazzi a Varese c'è un coniglio Guardate che carino Ragazzi dopo aver registrato i video Si va Al bagno durco Al bagno durco In sauna E comunque a rilassare Se pega Registriamo gli ultimi video I miei capelli fanno veramente cagare Poi stasera alle 19 si parte di nuovo Per ritornare a casa Però intanto mi godo Se così si può dire Perché il tempo fa schifo L'ultima giornata a Varese Ragazzi abbiamo finito di registrare Abbiamo pranzato E adesso si va in aeroporto Per ritornare a casuccia Alle sette Saremo 5 ore in aeroporto 5 ore in aeroporto Esatto E c'è anche lui che se ne va a casa No tu non te ne vai a casa Quindi ragazzi Se questo video è piaciuto Vi invito a lasciare Come sempre un bel pollicino Di sotto a questo video Da Giampic Eh? Murri L'omino nero È tutto Viva Mike Ciao